Il terzo appunto del ciclo di webinar Cisco intitolato Il risorgimento da ritrovare è ideato da Andrea Campani e dopo gli incontri del 27 ottobre e del 25 novembre dedicati rispettivamente alle questioni della ricerca e dell'università apriamo il nuovo anno con il tema della presenza o dell'assenza del risorgimento nel dibattito culturale contemporaneo avremo attenzione per diverse modalità comunicative di divulgazione, di alta divulgazione ma anche per le coordinate spazio-temporali con le quali il risorgimento e più in generale l'Ottocento possono essere trasmessi, messi in circolazione in vari contenitori culturali, dal mezzo televisivo alla carta, all'editoria, eccetera questo film dialoga tra l'altro con i precedenti ma direi soprattutto con il quarto rispetto al quale fa da ponte il quarto e ultimo che verrà coordinato da Roberto Balzani il 18 febbraio e sarà dedicato al rapporto tra risorgimento e società, società civile come quanto si parla di risorgimento di Ottocento fuori dalle istruzioni accademiche dal circuito degli addetti ai lavori il dibattito culturale quanto è aggiornato rispetto agli avanzamenti che la ricerca ha prodotto nel corso di oltre un ventennio cosa può interessare ai pubblici odierni dell'ampia rilettura che appunto ha coinvolto almeno due generazioni di studiosi e come mediare questa rilettura, come farne tesoro quali versanti, quali format narrativi, quali categorie possono essere messe in circolo e valorizzate attraverso l'attenzione delle istituzioni culturali ecco, gli interventi di oggi grazie alla disponibilità dei relatori che ringrazio e al loro rispetto dei 15 minuti assegnati cercheranno gli offrici degli spunti anche in ottica comparativa sono felice di ritrovare fra loro amici e colleghi vi cito nell'ordine in cui parleranno senza fare una presentazione formale Fulvio Cammarano che alla sua esperienza diretta di studioso unisce una constituzione di interventi tutt'estate e supplementi di rilevo nazionale proprio in tema di tempo storico, di contemporaneità, di ottocento e da pass presso del Cisco ha usufruito di un osservatorio privilegiato per avere il polso del dibattito anche esterno al circuito degli adepi ai lavori Raffaele Romanelli che aspettiamo che nella sua attività di ricerca ha spesso riflettuto sulle direzioni pregio che può prendere la storia dell'Ottocento ricordo per i tempi recenti il bel forum organizzato da una serie di storico quattro anni fa dove va l'Ottocento punto di domanda che l'ha visto tra i protagonisti ma penso anche alla guida e all'aver portato in porto una grande opera collettiva come il dizionario biografico degli italiani riservando proprio a protagonisti maggiori e minori dell'Ottocento e del risorgimento italiano una sezione preziosa Catherine Brice che da oltre dieci anni ha aperto nuovi cantieri internazionali aggiungendo le proprie ricerche e stimolando piste innovative per la conoscenza delle dimensioni pubbliche e private del risorgimento italiano in ottica trasnazionale che ci potrà anche dare il polso della situazione dal punto di vista francese Pedro Rougla anche lì profondo conoscitore del versante trasnazionale del risorgimento con riferimento ai suoi circuiti mediterranei e iberici soprattutto ma anche direttore di una prestigiosa casa editrice universitaria le prenses della Università di Saragossa e a loro si aggiungono parlando per terzo e per quarto due esperti quali Antonio Cariotti giornalista del Corriere della Sera una firma che tutti ben conosciamo, scrittore e Massimo Bernardini, giornalista, scrittore, critico musicale e autore televisivo di cui ricordo in particolare l'esperienza con Rai 3 con l'edizione dal 2013 al 2016 da Il tempo e la storia Ecco, li ringrazio nuovamente anticipo che Antonio Cariotti dopo l'intervento dovrà lasciarci per rientrare al lavoro in redazione Passo loro la parola per gli interventi di 15 minuti l'uno cui seguirà un primo giro di domande e poi eventuali lettere repliche con l'obiettivo di chiudere il dibattito al massimo per le 19 Dunque, grazie ancora a tutti i presenti il relatore Andrea Ciampani il microfono va virtualmente a Fulvio Camarano e grazie per l'attenzione Bene, grazie per l'invito Io riprenderò alcuni temi, alcuni aspetti che avevo già affrontato in sede anche di Seminari Sisco 15 minuti ovviamente significa dire cose molto transciamma fa parte del gioco Diciamo, sono due gli aspetti che vorrei toccare il primo riguarda l'impegno come presidente Sisco cioè le vicende occorse in quel periodo che in qualche modo mi hanno permesso di riflettere sul tema del neoborbonismo è stata un'epoca in cui c'è stata molta attività della Sisco proprio per rispondere alle offensive chiamiamole neoborboniche che avevano a che fare ovviamente con la vicenda politica su cui non entro ma avevano a che fare anche con una sfida storiografica una sfida storiografica che aveva un qualcosa di militante e la Sisco nel reagire soprattutto ricordo l'attività molto intensa a cui vertice c'era Carmine Pinto e tutto il gruppo dicevo un'attività di risposta che nel osservare questo conflitto io mi sono reso conto che diciamo da parte di questa cultura storiografica c'era la ripresa di molti dei temi classici della vecchia immagine del risorgimento per cui diciamo era un modo di procedere di ragionare proprio connesso e funzionale a quella immagine del risorgimento come guerra di conquista piemontese eccetera per cui c'era una specie di in questi dibattiti che alcune volte prevedevano anche un rischio per l'incolumità fisica in alcuni casi per cui stiamo parlando di qualcosa di vivo che era vissuto davvero non sto a fare i nomi dei luoghi dove ci sono stati problemi e tensioni però al di là e ripulendo tutte le altre questioni c'era questa totale inconsapevolezza della portata dei fenomeni di cui si stava parlando e il risorgimento era inevitabilmente descritto come una storia di complotti di massoneria di intrighi internazionali di sovrani buoni e cattivi era una storia sospesa in una sorta di teatro di burattino anche nei livelli più sofisticati c'era questa dimensione tra il complottistico e l'intrigo internazionale allora questa sorpresa in un certo senso perché io poi non sono uno studioso del risorgimento questa sorpresa nel vedere questa modalità di interpretare il risorgimento mi ha fatto riflettere sul fatto che e qui vengo al secondo aspetto che è collegato a questo della necessità di uscire da questa immagine stereotipata tutti lo dicono tutti lo vogliono ma il problema è come si esce da questa immagine un po' datata del risorgimento diciamo molti cantieri sono aperti ovviamente molte cose si stanno facendo io se devo dire la mia opinione credo sia necessario impegnarsi soprattutto per rafforzare la tendenza già in atto al ripensamento della periodizzazione una tendenza emersa anche in ambito accademico ci sono i corsi ad esempio che si chiamano età delle rivoluzioni per cui diciamo siamo andati oltre non è solo una questione lessicale ovviamente però andare oltre il campo accademico ma non solo anche tra gli storici tra i cosiddetti risorgimentisti traendone però andare oltre significa le inevitabili conseguenze c'è un'uscita da alcune forme inerziali di immaginario per cui adeguamenti concettuali e lessicali allora la periodizzazione è un tema a cui sto riflettendo da un po' di tempo e che ha diciamo si connette bene al discorso che sto facendo adesso e che stiamo portando avanti perché se il termine a quo mi sembra molto facile concettualmente anche se è conteso accademicamente stiamo parlando delle rivoluzioni settecentesche è un termine a cui la maggior parte dei contemporaneisti è ovviamente molto legato non solo per motivi affettivi ma anche per motivi logici però se usciamo dalle pure inevitabili beghe accademiche che non sono cose secondarie perché vuol dire distribuzione di risorse di posti eccetera per cui storia moderna storia contemporanea dove inizia dove finisce però se usciamo da quello e io ho avuto modo di parlare più volte con diversi modernisti io devo dire che è difficile negare che la contemporaneità nasca proprio con le rivoluzioni settecentesche è molto difficile poi se entriamo in una logica di conquista di territorio io questo lo posso capire ma spesso diciamo ne ragioniamo addirittura immaginandoci che ci sia un'idea davvero di un confine della storia moderna che si possa spostare della storia contemporanea che possa andare un po' più avanti o cose di questo tipo la contemporaneità inizia con le rivoluzioni settecentesche ma con le rivoluzioni settecentesche che prende avvia il diciannovesimo secolo per cui abbandoniamo il calendario l'età contemporanea ha inizio lì perché perché la scena pubblica si riempie di individui che si presentano come soggetti politici in grado di ribaltare il loro rapporto di subordinazione alla struttura centuale e a quella statale ecco il motivo per cui diciamo inizia l'età contemporanea un ribaltamento dell'immaginario che esalta la forza di un nuovo legame tra individui e tra gli individui e lo Stato la politica insomma stiamo parlando questa smania moderna aveva definita il moderato Filippo Golini nel 1843 ed è davvero una smania moderna ed è al politico come lo chiamiamo noi oggi per definire l'ambito per definire un'energia in azione che questi individui protagonisti si affidano per progettare il futuro e anche questa idea di progettare il futuro nasce lì nessuno immagina che si possa pensare politicamente il futuro e scatenare cosa? Diciamo la lotta per il riconoscimento che prenderà il nome anche quando non verrà mai pronunciato di costituente qui questo è quello che avviene diciamo che questi individui protagonisti progettano il futuro e pretendono un riconoscimento un riconoscimento che ha questo nome anche ripeto se non viene pronunciato che io definisco in questo senso costituente per sintetizzare molto è un'agitazione mentale prima che politica che al di là della forma e dell'intensità si presenta come potenzialità che coinvolge tutti chi vuole rivoluzionare e chi vuole conservare qual è dunque la logica idealtipica che funge da filo rosso per definire al di là dei criteri di calendario il diciannovesimo secolo allora questo quello che ho già avuto modo di dire di scrivere è composto per immaginare abbiamo detto di soggetti giuridicamente liberi stiamo parlando in maniera idealtipica ripeto la cui azione mette in crisi gli antichi bastioni familiari di ceto per fare dell'individuo la misura di ogni cosa la società civile appare dunque al centro e definisce l'ambito entro cui si muove la nuova scienza economica e a cui dovrebbe sottostare lo Stato ovunque in occidente il liberalismo nella versione continentale ma anche in modi diversi in quella anglosassone si diffonde come dottrina rivoluzionaria che pretende di restituire agli individui la libertà di scegliersi il destino di affratellare i popoli liberare gli uomini da vincoli artificiali poteri privi di legittimazione popolare barriere giuridiche censure e superstizioni dal punto di vista politico tutto ciò impone un'idea forte elitaria di rappresentanza come strumento di controllo di ogni manifestazione del potere politico a cominciare dai governi inizia così il regno allora luminoso del Parlamento quello che secondo gli inglesi ha ogni potere tranne quello di trasformare un uomo in donna e far crescere un filo d'erba e che il costituzionalista Zanichelli definiva panacea di tutti i mali così era stato immaginato quando finisce questo diciannovesimo secolo nel momento in cui la ragione di stato ribalta il rapporto con l'individuo nel momento in cui il costituente si cristallizza nel costituito in cui il liberalismo diventa amministrazione e le ragioni del governo prevalgono su quelle della rappresentanza cosa meglio della nascita dell'impero tedesco può rappresentare simbolicamente non tale svolta non solo in Europa un modello certo non imitato ma ammirato interprete della nuova modernità della nuova sensibilità tra gli anni 70 e 80 dell'ottocento finisce il diciannovesimo secolo e secondo me il risorgimento e inizia il ventesimo secolo il novecento parte da qui perché lo Stato riprende anche culturalmente il suo posto la Germania nasce senza rivoluzione è un modello che funziona perché nasce senza rivoluzione anzi dalla sconfitta del 48 tedesco e non ha mai imparato lo dice Thomas Mann a conciliare la nazione con la libertà il successo planetario del modello tedesco non è la causa ma l'effetto dell'esaurirsi della spinta liberale costituente si presenta anche diciamolo pure come modello di risposta alla minacciosa crescita delle istanze democratiche Antonio Labriola nel 1890 dice una frase significativa persuadiamoci che con il glorioso centenario del 1889 è ormai chiuso il periodo della rivoluzione liberale cominciato il 20 aprile del 1789 l'individualismo cede il posto alla socialità il protezionismo scusate il protezionismo come sistema introdotto dalla Germania nel 1879 è il simbolo di una nuova cultura statalista ed efficientista che si diffonde persino negli Stati Uniti se è vero che negli anni 80 lo Stato federale comincia adottarsi di una commissione per il commercio intestatale mentre nel 1887 Wilson scrive un influente saggio sull'amministrazione pubblica partendo proprio dal modello tedesco in Giappone nell'89 l'imperatore concede una costituzione bismarchiana nei modi e nei contenuti è il trionfo del costituito e la fine della virtualità costituente è il trionfo della lenta ma costante ascesa dell'esecutivo a danno della centralità della rappresentanza voglio dire chiudendo che in Italia mi avviso e questo è lo sforzo un po' di riflessione che andrebbe fatto il risorgimento coincide integralmente con il XIX secolo così come ho provato a definirlo e dunque è un secolo che ha una caratteristica unificante che coincide con la cultura i simboli di quello che oggi chiamiamo risorgimento che però ovviamente non va inteso in senso nazionale è l'età insomma della sensibilità e della speranza costituente e con questo in maniera molto tranchant credo di aver rispettato i miei tempi grazie millimetrico grazie Pulvio poi così guadagniamo tempo per un confronto successivo grazie per queste coordinate temporali imprescindibili per capire anche nel dibattito culturale di che cosa si può e si deve parlare con la spala di risorgimento di ottocento questo diciannovesimo secolo quindi è un centinaio di anni però appunto 1876 forse 1876 so che appunto per te l'arrivo al tempo lungo della prima guerra mondiale non funziona mentre hai spiegato come va intesa l'estensione di questo secolo e allora adesso la parola passa a Raffaele Romanelli per il suo intervento grazie mille grazie a te mi sentite? bene purtroppo mi vedete anche perché io sono deturpato da una infezione batterica ma colpisce solo la mia vanità e non la mia parola grazie anche da parte mia per l'invito ho seguito con attenzione e partecipazione quello che diceva Fulvio largamente condivido un terreno sul quale amo muovermi e mi veniva da pensare in relazione a due appena due note che dirò qui su tutt'altro tema qual è il ruolo il peso più che il ruolo della politica in senso lato della militanza politica collettiva nella riflessione storica nella tradizione storica eccetera e mi veniva a pensare quando io ero giovane andavamo nelle biblioteche nelle librerie in particolare londinesi o penso a Blackwell a Oxford per esempio e affascinato almeno io e altri dal settore social history cioè è una cosa davvero allora non c'era da noi ci andiamo a vedere c'è di social history social history era tutto quell'insieme un po' caotico a volte un pochino divulgativo di cose che riguardavano la vita comune la vita materiale insomma aspetti vari della storia sociale che da noi non era per nulla coltivato forse la prima il primo testo che introdusse delle idee del genere la traduzione del primo volume di Eric Hobsbawm sull'età della burguesia in cui c'era un nuovo politico poi si sa che Hobsbawm aveva una posizione militante però con questo sguardo sulla società ecco quei tempi sono strafiniti forse le nuove generazioni non hanno dovrebbero ricostruirlo mentalmente non hanno molto l'idea di cosa si trattasse fatto sta che il panorama della cultura storica della storiografia di oggi è molto cambiato e forse non dirò destino a uno spazio centrale questo no ma insomma un corposo spazio a quella che ho chiamato allora che avrei chiamato la social history la storia sociale forse insomma c'è tutta una serie di tappe di avvicinamento che riguarda per esempio l'intervento la modifica che dello statuto del risorgimento che ha dato Banti con un'attenzione a delle motivazioni generazionali di militanza ma su questo terreno anche testi che non possono risorgirsi di riguardarsi i privati come i piccoli cospiratori di Arianna certo si occupa pieno titolo di militanza politica però con quel piccolo cioè con un'attenzione generazionale con un'attenzione alla giovinezza ed è un tema che sempre di più è andato è andato allargandosi penso ai libri di Elena Papadia la forza in particolare l'ultimo la forza dei sentimenti che è proprio riguarda proprio questo cioè riguarda proprio anche se parla di anarchici socialisti tema classicissimo però vede le cose attraverso delle emozioni amorose parentali filiali materne generazionali e così via ancora beh forse uno dei punti tra i tanti libri che escono più singolari uno dei punti di approdo più singolari è l'ultimo libro di Paolo Macri in cui la politica proprio non soltanto non scompare ma è quasi una una contro realtà storica per chi non avesse avuto occasione di discorrerlo dirò che sono essenziali le ultime quattro cinque non mi ricordo pagine in cui lui spiega perché ha scritto questo libro cioè spiega perché il padre e la madre che lui il cui rapporto lui descrive noi entriamo il merito come un grande rapporto di amore il padre viene parte per la guerra viene preso prigioniero va in campi di concentramento torna insomma e la famiglia si sfascia torna e tra l'altro genera l'autore del libro perché parlo che è nato dopo queste esperienze e la famiglia si sfascia non dice altro ma è evidente che tutto ciò ha ispirato una serie di poi di medaglioni che costituiscono l'oggetto del libro in cui si vede che le emozioni i sentimenti i rapporti sono devastati sono interrotti determinati uccisi a seconda si va come qualcuno può vedere scorrendo l'indice del libro da Santorre di Santa Rosa ai brigatisti cioè in un arco di tempo molto lungo e di situazioni esperienziali molto diverse è evidente che non c'è la più lontana presa di contatto con l'oggetto politico sulle posizioni di questi signori che sembrano non soltanto non interessare ma essere quasi una controstoria ciò che uccise la loro vita insomma la storia l'ideologia la politica ora non dico che questo sia un trend anzi non tutt'altro è prevalente tant'è che che Fulvio ha esaltito ricordando la le questioni neoborboniche se io ricordo se io faccio riferimento alla storiografia meridionalista che nasce da questo da questa battaglia da questo campo di tensione sul neoborbonismo è tutta politica c'è un'intera stagione di produzione storiografica molto ricca che noi possiamo avvicinare al nome di Carbine Pinto di molte pubblicazioni sul brigantaggio meridionale in cui è tornato non certo come residuo di atteggiamento passato ma è una cosa di estrema vitalità la politica la politica la militanza l'ideologia quindi non sto dicendo che sia una dimensione quasi superata certo verrebbe un pochino dire anche qui ma forse sto un po' tirando troppo la corda che c'è una divisione tra nord e sud cioè io ormai vedo la divisione tra il sud anche se compro una scala di fiammiferi cioè è veramente incredibile quello che secondo me il profilo italiano sembra come ci sono varie Italie accostate ma questo forse è eccessivo del resto i nomi dei dei testi almeno un po' casinamente ho citato gli autori beh salvo ma nessuno di questi è meridionale però quindi non è certo qualche cosa che riguardi soltanto il centro nord però forse c'è anche una ogni ogni questione ha la sua stagione insomma e forse oggi la stagione neoborbonica ci mostra una maggiore urgenza di una visione politica del conflitto o delle tensioni storiche in particolare il mezzogiorno ma questa è soltanto una una estensione probabilmente indebita ecco direi soltanto nella trasmissione e produzione di divulgazione di una consapevolezza storica che il nostro mondo storiografico è largamente intriso di un privato di una dimensione emotiva familiare che tipicamente ancora poche generazioni fa era contrapposta alla politica cioè era qualche cosa che certo esisteva quasi una dimensione un po' femminile se io penso avendo un po' a suo tempo studiato il dibattito sul voto femminile no la politica è una cosa maschile poi c'è tutta un'altra dimensione che è importante la domesticità la famiglia la maternità insomma sono cose però molto separate oggi questa frattura non c'è e forse è l'elemento uno degli elementi mi sembra significativo quanto poi questo influisca non soltanto sulla consapevolezza sulla diffusione anche la didattica perché poi di questo un po' si tratta che cosa insegnano i manuali i nostri insegnanti ai giovani cosa ai giovani interessa per questo sinceramente io non ho a parte che sono anziano non ho esperienza recente nel mio insegnamento universitario ma tantomeno insegnamento medio scolastico medio però penso che sia una cosa importante ho sempre pensato che la storia sia una disciplina molto difficile molto si comincia in terza elementare con estrema difficoltà a focalizzare questi bambini che questa cosa è una disciplina molto complicata e molto ardua non so quindi in che modo l'insegnamento di quella che noi chiamiamo storia possa debba e possa includere questa tensione anche affettiva della quale parlavo questo non lo so certamente mi pare che il quadro sia sia mutato e stia mutando tant'è che anche questi testi che rapidamente ho citato come dire se posso dire così non si vergognano per scrivere politica parlando di amore o di fratello e sorello o di marito e moglie una cosa serissima cosa che forse 50 anni fa non sarebbe stata sarebbe stata un po' stridente è una cosa quindi niente questi sono gli spunti so bene di lasciare ampio spazio dei miei regali i miei 15 minuti è migliore offerente perché questo è soltanto uno spunto che pensavo di dare seguendo il dibattito complessivo non commento Ciucoletto Fulio che è di grande interesse anche sulla datazione dell'ecologia perché insomma è proprio un altro settore il quale sono molto interessato ma non è questo non è questa la serie questo è questo grazie Rianna dell'attenzione regalo i miei minuti a chi vuole grazie buon tardissimo allora qualcosa rubo io per dire che in realtà ci hai dato anche tu coordinate coordinate che nascono dalla tua attenzione per quella che sicuramente è stata e continuerà penso ad essere l'esigenza autobiografica dello storico come molla per andare a indagare versanti e come hai detto tu trovarsi al suo agio laddove magari 50 anni fa i suoi predecessori non avrebbero mai messo piede quindi l'idea che il dibattito culturale debba tener conto di un avvicinamento generazionale debba essere sensibile al fatto che la storia del risorgimento non è un monolito che si può così spostare da autori appunto del secondo dopoguerra o degli anni 70-80 e appunto oggi commentare bisogna che nel dibattito culturale sia recepito il cammino che la storiografia ha naturalmente fatto anche biologicamente con l'avvicinamento delle corti di storici che hanno lavorato e che lavorano e quindi adesso la parola ad Antonio Carioti che torno a ringraziare perché appunto ha questa questo varco nel suo lavoro di redazione di oggi che ci regala e appunto 15 minuti anche per lei dottor Carioti mi sentite? Perfetto innanzitutto ringrazio la Cisco di questa opportunità che mi ha offerto di questa occasione per dibattere un po' su un argomento che mi sembra penalizzato nel dibattito pubblico nel senso che sia per l'attualità che rivestono altro genere di discussioni sia per la mancanza o comunque la carenza di materiale iconografico di filmati eccetera quando i mass media si interessano del risorgimento lo spazio è piuttosto limitato uno spazio poi che è anche condizionato dalle diverse stagioni politiche che vive il nostro paese nel senso che l'avanzata di movimenti populisti di destra per esempio ha riportato fortemente l'attenzione sul fascismo e quindi abbiamo anche dei fenomeni come un best seller come M di Antonio Scurati oppure come il libro Mussolini ha fatto anche cose buone di Francesco Filippi che hanno avuto un grosso successo di pubblico e anche un riscontro sulla stampa proprio perché andavano a toccare dei temi che in qualche modo si ricollegavano all'attualità cioè nell'acconto di Scurati dell'ascesa di Mussolini molti vedevano in filigrana anche appunto le vicende più attuali dell'avanzata in gran parte d'Europa di movimenti populisti di destra e xenofobi quindi per di più la storia del risorgimento mi sembra sia stata penalizzata anche dal punto di vista proprio dell'insegnamento scolastico di cui si parlava prima perché con l'idea di fare nell'ultimo anno delle scuole secondarie superiori alla storia del novecento l'ottocento risulta inevitabilmente schiacciato e quindi il suo spazio si riduce ulteriormente poi come ricordava Cammarano il dibattito sul risorgimento risente anche di diverse stagioni politico-culturali abbiamo parlato del neoborbonismo ma si potrebbe anche parlare in precedenza di una certa diciamo revival cattolico-sanfedista autori come Angela Pellicciari hanno avuto un rilievo che probabilmente non meritavano ma era un periodo in cui diciamo la Chiesa Cattolica italiana aveva assunto un forte profilo politico grazie alla guida della CEI del Cardinale Camillo Ruini e quindi certi umori anche risorgimentali cattolici risorgevano si scoprivano diciamo vecchi motivi della polemica sanfedista clericale contro il risorgimento come se fossero straordinarie novità che venivano a smentire invece una vulgata risorgimentale che avrebbe appunto dato un'immagine idilliaca del risorgimento un altro fattore da questo punto di vista di delegittimazione del risorgimento è stata in passato la posizione della Lega cioè noi abbiamo avuto per lungo tempo un partito che aveva un consenso piuttosto vasto e radicato soprattutto nelle regioni più progredite dal punto di vista economico e sociale che leggeva l'unità d'Italia in quanto tale come un disvalore e questo si è ripercorso poi se voi ricordate anche nelle vicende del centocinquantenario dell'unità d'Italia quando le celebrazioni in realtà sono state in qualche modo limitate da questo atteggiamento di un partito che all'epoca era il governo e che assolutamente non vedeva l'unità d'Italia come un fatto da celebrare anzi per certi versi come un fatto negativo come un evento che aveva penalizzato le energie del nord attraverso appunto una unificazione innaturale insomma rispetto alla quale il popolo veneto e il popolo lombardo avevano il diritto il popolo padano anzi questa espressione di padania che adesso scomparsa totalmente ma allora si parlava ancora di lega nord per l'indipendenza della padania e questo pesò in tutta la vicenda della celebrazione dell'unità d'Italia che furono in gran parte concentrate in Piemonte c'è questo strano vicenda per la quale appunto soprattutto Torino ha celebrato l'unità d'Italia e soprattutto il nord-est ha ricordato le vicende della prima guerra mondiale c'è quasi una spartizione di tipo territoriale delle commemorazioni abbiamo assistito anche a questo per certi per certi versi e in qualche modo poi la reazione neoborbonica al leghismo ne ha però in qualche modo ripreso alcuni motivi se Bossi sosteneva che la povera padania era stata colonizzata da una classe dirigente meridionale dall'altra parte si ribatteva che al contrario era il regno delle due Sicilie che aveva una sua forte identità e che è stato trattato come una colonia addirittura appunto con eventi di violenza inaudita paragonabile a quelle della seconda guerra mondiale da parte dei conquistatori non definiti italiani ma piemontesi e su questo si è sviluppata tutta la polemica con asperità anche notevoli e poi anche lì abbiamo avuto un best seller libro storiograficamente certamente di scarso valore Terroni di Pino Aprile che però è stato un successo dal punto di vista commerciale notevolissimo tant'è vero che poi lui ha continuato su questo filone producendo diversi altri libri anche se di minore di minore successo e facendo un po' da pandà con Lorenzo del Bocca che invece con le sue serie di articoli sulla Padania e anche con alcuni libri pubblicati da PM in sostanza contribuiva a questa delegittimazione dell'unità d'Italia dal punto di vista così della ricerca storiografica si tratta di vicende che possiamo pensare anche di esserci lasciati alle spalle per esempio appunto tutto il lavoro che ha fatto Carmine Pinto sul brigantaggio sicuramente risulta prezioso da questo punto di vista però non è detta che non risorgano perché le loro motivazioni non sono motivazioni legate alla ricerca storiografica ma motivazioni legate agli avvenimenti di tipo storico-politico tra l'altro c'è anche un riflesso tra virgolette a sinistra in questo momento di questo tipo di atteggiamento se voi pensate a certi libri che di fronte a una destra che grida prima agli italiani in contrapposizione agli immigrati e quindi a questo forte richiamo nazionalista e xenofobo allora capita che escano libri come Contro l'identità italiana di Christian Raimo il quale appunto si sofferma per esempio sul vittimismo della cultura risorgimentale mette in dubbio anche la validità dell'operazione compiuta da Ciampi rilanciando l'inno di Mameli e il risorgimento e tra l'altro questo vittimismo voglio dire sicuramente c'è ma corrisponde a una realtà cioè è una dominazione straniera durata secoli nessuno parla insomma di vittimismo di fronte per esempio alle rivendicazioni di autodeterminazione dei paesi del terzo mondo ecco c'è soltanto quando parliamo di noi stessi c'è questo dato ultracritico di questo tipo un altro libro del genere dello stesso Francesco Filippi che ha fatto che ha avuto grande successo con Mussolini ha fatto anche Cose Buone quello invece prima gli italiani ma quali anche lì si mette voglio dire è un dibattito che esiste quello sulla difficoltà di fare gli italiani del fatto che il risorgimento è stato prodotto di una minoranza sul fatto dell'ingresso delle masse nello Stato che ha procurato le difficoltà che noi sappiamo e poi contribuì anche all'ascesa dell'ascesa del fascismo però il problema è che questo tipo di problemi di questioni storiografiche tutta la dibattito sulla questione meridionale viene riproposto in forma ipersemplificata e spesso senza grande riferimento agli avanzamenti che ha avuto la storiografia nel frattempo questo è abbastanza preoccupante credo che compito anche nostro di giornalisti di divulgatori sia cercare di porre un argine a questo modo a questo modo di ragionare purtroppo non sempre è stato possibile qualche occasione è stata anche perduta io credo da questo punto di vista penso per esempio ai bicentenari di Mazzini di Garibaldi e di Cavour quello di Cavour poi diede addirittura luogo a una disputa tra due diversi comitati e poi alla fine qualcosa si fece ma più che ricordare il bicentenario della nascita di Cavour si finì per ricordare il centocinquantenario della sua morte che essendo lui morto a 51 anni ricorreva poi l'anno successivo il 2011 invece che il 2010 l'anno Cavouriano in qualche misura fu il 2011 e forse chissà sarebbe anche possibile che qualcuno facesse l'operazione che ha fatto Scurati su Mussolini su qualche personaggio ottocentesco per esempio Garibaldi si presterebbe molto da questo punto di vista non so se avrebbe lo stesso successo perché probabilmente è più difficile Garibaldi lo vediamo molto più lontano da noi in questo senso c'è stata sicuramente una cesura storica con l'ingresso delle masse nella vita politica e anche se Garibaldi in qualche modo con l'appello ai volontari con anche questo suo socialismo ingenuo era un personaggio che potremmo in qualche modo considerare che percorresse i tempi ecco di quello che poi sarebbe avvenuto nel nostro paese però rimane poi per altri versi un personaggio decisamente ottocentesco sul quale è difficile costruire oggi un mito che possa parlare ai giovani parlare alle persone io sono convinto però che l'abbandono del risorgimento e l'idea che per esempio è un altro problema non esiste una data celebrativa del risorgimento in sostanza la data di celebrazione dell'unità nazionale è il 4 novembre che però si ricollega se ci si vuole ricollegare alla prima guerra mondiale non certamente al risorgimento la repubblica italiana è nata molto dopo il risorgimento e dietro si porta anche alle difficoltà di quello che è stato il risorgimento come conquista regia e come imposizione da parte di una minoranza per quanto si trattasse di una minoranza attiva e non così esigua come a volte si dice però sicuramente l'iniziativa non venne presa dalle masse siamo ancora in un periodo in cui le masse sono toccate soltanto marginalmente dagli eventi storici di natura politica e comunque non vi partecipano in maniera così significativa come poi avverrà in seguito da questo punto di vista anche l'unità italiana Camarano diceva giustamente l'unità tedesca si fa senza rivoluzione però obiettivamente anche l'unità italiana è difficile presentarla come il prodotto di una rivoluzione tant'è vero che Vittorio Emanuele mantiene il titolo di secondo proprio per sancire la continuità netta tra il regno di Savoia il regno di Sardegna e l'Italia unita e su questo molto naturalmente si è discusso e probabilmente ci sarebbe ancora da discutere ci sono ancora dei temi da toccare e da e da approfondire quello che mi preoccupa appunto è questa influenza del del dibattito politico su quella storiografico perché poi a noi giornalisti alla fine tocca sempre inseguire l'attualità in qualche modo quando proponi di parlare dell'ottocento si dice sì però che cosa ci insegna oggi ecco e naturalmente questo rende diciamo tutta la nostra opera un pochino più difficoltosa quando si tratta di affrontare questo questo genere di argomenti io sono convinto che nonostante tutto appunto dato che è lì che si è manifestato quello che Camarano chiamava il potere costituente quindi le istituzioni fondamentali della rappresentanza politica che tuttora sono in vigore in qualche modo prendono il via dal vento della rivoluzione francese che è la culla della politica moderna e che arriva poi in Italia avendo come conseguenza il risorgimento che se vogliamo prende proprio l'avvio dalla nascita di un regno d'Italia nell'epoca napoleonica e così via è una carta da giocare questa che il presidente Ciampi in qualche modo ha giocato con grande coraggio secondo me con risultati tutto sommato non disprezzabili certo in un'Italia preda soprattutto di forze politiche populiste e con delle tentazioni xenofobe molto forti il dibattito rimane aperto ecco vedo più facile ritornare per esempio sull'esperienza coloniale italiana dato che oggi poi ci troviamo a confrontarci in un'Italia che diventa multiculturale che ha un'idea invece di una identità italiana forte però mi sembra un errore nel senso che se non si ha una identità significativa è anche difficile proporre a queste persone che vengono da fuori di assumerle in qualche modo di diventare italiani ecco e quindi da questo punto di vista richiamarsi al risorgimento secondo me rimane un fatto importante trovare spazio nel dibattito pubblico però è difficile quindi questo richiede un po' l'impegno di tutti noi l'impegno degli storici anche di cercare di portare il risultato delle proprie ricerche sul piano della divulgazione e poi a noi giornalisti di raccogliere diciamo questo questo genere di attività e di sono finito al buio vedo mi dispiace pensavo di poter stare con la luce naturale momento che vado a accendere la luce ecco adesso mi vedete un po' meglio dicevo le difficoltà sono tante credo però ecco che con l'aiuto di storici come Cammarano che da questo punto di vista è un prezioso collaboratore proprio di recente abbiamo fatto un approfondimento sul tema della patria ecco credo che qualche cosa di buono si possa fare al di là appunto dell'influenza del dibattito pubblico politico che invece ci porta spesso fuori strada grazie grazie per questa lettura dal suo versante che però appunto frequenta la produzione ampia eterogenea di storia che ci dà il polso di una congiuntura non favorevole ma lo avevamo citito divulgate appiattite sul presente e sulla strumentalizzazione della politica quotidiana le battaglie degli anniversari perché molto spesso gli storici sono interpellati dai media solo perché c'è un'occasione che ovviamente può fare da volano è già qualcosa da però chiaramente un dialogo virtuoso fra i diversi modi di affrontare questa storia del risorgimento che poi sta dentro la storia dell'ottocento europeo ed extraeuropeo direi globale può essere ancora molto utile quindi grazie a dottor Cariotti e si senta libero di lasciarci quando deve sì purtroppo tra un po' dovrò farlo però per un po' rimango ad ascoltare molto volentieri magari se ci fosse qualche domanda che fa tempo la potrà intercettare quindi la parola adesso a Massimo Bernardini 15 minuti grazie Buonasera a tutti volevo partire da una riflessione personale a me è accaduto per tre anni di confezionare per per la per la storia alla fine ho fatto i conti circa 500 puntate del tempo della storia quante di queste siano dedicate al risorgimento è come dire da vedere dovrei rimettermi adesso a fare il conto direttamente però come dire in qualche modo abbiamo dedicato vasto tempo al dibattito proprio sul risorgimento e io vorrei partire però da un da un elemento cioè dalla narrazione pubblica se volete storto il termine public history in questo modo che si sta facendo oggi sul risorgimento in Italia ora a me pare che innanzitutto sia un tema di passato uno subito questa parola perché la cosa singolare che io ho sperimentato in quei tre anni in cui ho fatto il tempo alla storia è stata che esiste nelle techerai e quindi dentro la come dire dentro il fondo profondo mi è da dire della RAI una narrazione risorgimentale ricchissima a me è piaciuto rivedere per esempio certi racconti diciamo degli anni sessanta settanta parlando di una televisione bianco e nero una televisione che che però chissà perché proprio in quei due decenni anni sessanta si è molto dedicata alla ricostruzione degli anni della formazione della nazione italiana fra l'altro in molti modi diversi secondo un racconto per esempio legato alla alla cosiddetta come dire televisione pedagogica legata per esempio a formule molto particolari come teatro storia per esempio che era un programma perduto diciamo oggi ma molto interessante cioè la il la il divulgare in chiave del presente del del contemporaneo il racconto del risorgimento ecco in realtà appunto i quei due decenni che avevano alle spalle una RAI che aveva poco più di cinque anni la vituperata RAI pedagogica se volete una RAI che intendeva in qualche modo essere uno strumento linguistico e non solo linguistico ma proprio di divulgazione uno strumento formativo per per gli italiani poi appunto dire pedagogico adesso dire una bestemmia rispetto alla televisione ma io sono convinto invece che come diceva scompianto Ettaro Bernabè che la televisione è comunque pedagogica ed essendo comunque pedagogica di fatto è una televisione che eh che se non racconta il risorgimento racconta qualcos'altro comunque eh e tutto sommato il racconto del nostro passato del nostro ottocento tutto sommato era più interessante tutto sommato della della De Filippi ma questo se volete è una digressione come dire laterale tutto questo insomma ecco ehm mi sono reso conto appunto in quei tre anni che eh di fatto esiste un profondo fondo un fondo fra l'altro come dire usato in varie direzioni linguistiche cioè c'è proprio lo sceneggiato televisivo se pensate lo chiamavamo così allora la cosiddetta fiction ehm c'è la versione appunto fino ad arrivare al al processo come dire alla la versione in termini come dire di dibattito allora eh parlando di allora molti anni fa dibattito contemporaneo su temi del passato e poi c'era soprattutto nella televisione degli anni sessanta una televisione come dire divulgativa piccola fatta anche di piccoli appuntamenti cioè provate a pensare al fatto che oggi che siamo inondati questo stramaledetto racconto della cronaca nera la cronaca nera negli anni sessanta era invece il racconto del nostro passato per esempio e questo era molto molto interessante rivederlo oggi noi quando facevamo quelle puntate mi ricordo che andavamo indagando questo fondo infinito perché davvero è infinito la televisione in bianco e nero ha lavorato sugli anni del risorgimento in maniera molto ricca e in secondo come dire inflessioni linguistiche molto diverse che vanno dal processo al documentario dal dal fra l'altro mi viene in mente questo momento utilizzando fra l'altro i migliori attori italiani c'è un cavur di Renzo Palmer per fare un esempio il primo esempio mi viene in mente in questo momento che resta nella storia della televisione italiana e Renzo Palmer non era come dire un attore che aveva sempre delle azioni storiche è che la televisione di allora ingaggiava i migliori attori di allora proprio per per il racconto che intendeva fare l'oggi a me secondo me l'oggi sostanzialmente è il cinema mi vengono in mente al volo due film di di Mario Martone noi credevamo è il giorno è favoloso in fondo Martone è ritornato a raccontare il nostro ottocento il ottocento se volete in una chiave di di antelotta di liberazione se volete quindi con un forte carico ideologico però anche per esempio il giorno è favoloso attraverso la figura di un poeta filosofo come Leopardi che ha segnato profondamente la storia della narrazione oppure mi ricordavo qualcuno di voi proprio ne parlavamo ieri il sordio del Marchese del Grillo no? che peraltro ormai è diventato famoso solo per questo fatto io so io voi non siete un puntini puntini ecco che forse ormai lo applicano anche ai tennisti quindi insomma un po' particolare ora quindi in realtà per esempio una delle cose interessanti è stato fare il paragone dal punto di vista audiovisivo fra il centenario del risorgimento cioè 1861 1961 e il centocinquantenario allora se uno va a vedere il centenario si rende conto a parte che uno può andare sulla propria infanzia e riverificare come dalle figurine che facevamo per mantini se voi ve lo ricordate io me lo ricordo bene mia maestra ci faceva fare la raccolta di figurine il risorgimento e pensate voi che era una suora la mia maestra quindi eppure era una suora bresciana degli anni 60 che credeva fermamente nel risorgimento e a noi bambini degli anni 60 faceva raccogliere le figurine del risorgimento ora provate a pensare oggi proporre ai nostri figli ai nostri nipoti un album di figurine sul risorgimento perché sono morti tutti gli album più o meno storici però le figurine esistono ancora magari sono dei giocatori magari sono adesive però sicuramente nessuno vorrebbe più in mente di farle sul risorgimento il centocinquantenario da questo punto di vista è stato molto inferiore dal punto di vista come dire della divulgazione della cultura popolare lo è stato molto inferiore però però a me colpisce per esempio che dal punto di vista televisivo onestamente nonostante come dire gli sforzi grandiosi probabilmente anche eccessivi del mio maestro Giovanni Minoni in realtà non hanno quasi lasciato traccia dal punto di vista del del fondo televisivo mentre gli anni 60 e 70 sono profondamente ricchi di lavori interessanti sul risorgimento ecco però a rovescio a me colpisce molto per esempio il fatto che dal punto di vista editoriale il risorgimento come dire fra virgolette tira molto in questo momento vi faccio un esempio i due libri di Stefania auci i leoni di Sicilia e l'inverno dei leoni cioè per esempio la storia di Florio allora questi due libri ti fanno capire quanto quel tipo di racconto italiano della storia del nostro paese crei interesse cioè io so benissimo che il secondo libro è stato spinto dal successo del primo cioè auci non aveva mica il progetto di fare il secondo libro sui Florio eppure è stata in qualche modo costretta dal enorme dall'enorme successo del primo libro a creare il secondo quindi ecco lo sappiamo no? grande storie di questi industriali palermitani insomma che hanno creato in qualche modo una dinastia insomma di grande successo di economico culturale i palazzi eccetera 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 ecco il fatto che tanti italiani siano appassionati a questa storia la dice lungasi quanto in realtà il potenziale di racconto dal punto di vista proprio di 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 fascino di 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 audience ecco facciamo un ragionamento da da neotelevisione di audience abbia potenzialmente di sorgimento quindi come dire io sono convinto che che assolutamente la televisione che oggi non sta raccontando il nostro sorgimento ci vogliono fare diciamoci la verità se tu vuoi fare un racconto televisivo di successo devi stare lì fisso fra Hitler e Mussolini non c'è niente da fare Hitler e Mussolini sono come come dire sono mi chiede a dire i i nuovi adesso non voglio bestemmiare perché capisco che sono una parte di gente molto molto come dire strutturata quindi non voglio parlare dei nostri come dire insomma non lo farò il paragone ma insomma come dire gente che ha ricevuto l'ambrogino d'oro gente che è giovane gente che si è inventato un mestiere fra la musica e la rete e vi lascio immaginare di chi sto parlando ecco voglio dire questa è la nostra epoca per cui il racconto pubblico da un certo punto di vista è legato a questa gente qui però contemporaneamente io sono convinto che che il racconto del risorgimento sia affascinante e che all'interno della della produzione per esempio appunto della memoria della Rai che c'era solo la Rai anche solo per quello è un fondo infinito anche se a fare ascolto sono Hitler e Mussolini il racconto e il risorgimento dentro la storia della televisione degli anni 50 e 60 è veramente un fondo senza fine vi assicuro ci sono sorprese continue di cose che uno si è dimenticato e che sono affascinanti perché da una parte c'è il teatro i cosiddetti sceneggiati per cui è stata prodotta una serie di romanzi dell'ottocento infinita durante gli anni sessanta e poi ci sono tantissime formule diverse di racconto della storia perché comunque torniamo sempre lì la tv di Bernabèi era una tv che voleva dare la memoria agli italiani voleva ridare la memoria agli italiani soprattutto agli italiani che allora avevano una bassissima scolarità e secondo me alla fine quando si torna lì si capisce che questa maledetta tv pedagogica erano i Ferragnaz quella di prima lo dico così a passare la tv pedagogica in realtà di cui a partire da una certa sinistra italiana si è cominciato ad avere orrore in realtà è stata di fatto una televisione che ha formato la nazione e se ci pensate allora negli anni 60 e 70 e dico 60 e 70 perché uno può pensare che gli anni 60 siano stati come dire anni di appunto di di proterva tv pedagogica e gli anni 70 invece di una tv pedagogica come dire pluralista ecco si potrebbe anche dire così perché poi se uno va a leggere la storia per esempio degli anni 70 della RAI del 900 è molto interessante perché è un fondo assolutamente creativo e e discontinuo nel senso che ci sono dei racconti di lettura del passato assolutamente imprevisti certo era la cultura degli anni 70 con tutta la sua il suo portato dialettico il suo portato critico che forse oggi giudichiamo in un altro modo però sicuramente il cosiddetto pluralismo che era nato sulla scia della riforma di metà degli anni 70 quando Bernabé è la pelle che è andato in realtà fu l'ultima fiammata di una tv che io chiamo pedagogica capace di rileggere il passato in un modo diverso ecco da lì in avanti quando cominciò negli anni 80 la competizione col competitor ufficiale e io rimprovero profondamente la RAI di esserci adeguato al competitor ufficiale cosa che ancora adesso va avanti stiamo parlando come oltretutto di un affannato possibile Presidente della Repubblica puntini 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 ma senza non faccio nessun rilievo critico nel senso che è anche uno degli spunti più divertenti della nostra cultura pubblica come dire ecco quello che voglio dire è che lì si è perso come dire lì si è persa l'anima pedagogica della televisione perché da una parte è arrivata la televisione commerciale che in qualche modo ha cominciato a dire ma che ce ne frega di tutto questo e dall'altra una televisione pubblica che ha deciso che avrebbe inseguito il competitor sul suo terreno quindi un altro alternativo assolutamente diverso ma identico dire chi se ne frega insomma quindi in qualche modo il lavoro sul passato è diventato in qualche modo superfluo ecco questo voglio dire uno dice vabbè allora Rai 5 e allora Rai Storia per cui io devo dire ho lavorato e lavoro tuttora ecco sicuramente sono esperienze che dal punto e allora History Channel e allora e allora io sono convinto che l'ultima cosa in cui a cui tutti questi pensano è la strada di sorgimento italiano nel senso che è superflua è un è un racconto tutto sommato che non fa pile un bel pezzo sulla Petacee Mussolini vuoi mettere quello ripetuto 850 volte eppure ha ancora una pila assoluto insomma e i dati d'ascolto questo maledetto Auditel in cui io credo peraltro io credo fermamente in realtà dimostra che è vero che è vero cioè se tu prendi una Petacee qualsiasi e un Dongo qualsiasi e un bunker di Hitler qualsiasi tira molto di più che un Vittorio Emanuele II costozza prima guerra di indipendenza non c'è paragone non c'è paragone tanto i dati d'ascolto ma anche le 500 puntate che io ho fatto del Tempo della Storia lo dimostrano quindi il problema è tornare da capo avere la percezione di un servizio pubblico consapevole di che cosa è questa espressione cioè dire servizio pubblico cosa vuol dire vuol dire che in qualche modo paghiamo attraverso la bolletta del canone comunque attraverso la bolletta dell'energia un canone che serva abbia appunto una funzione pubblica e qui casca l'asino nel senso che più andiamo avanti e più questa questa dimensione di una televisione pagata da ciascuno di noi che si faccia carico della memoria del paese è sempre più una chimera secondo me ecco onestamente io sono arrivato ormai dopo vent'anni di lavoro per servizio pubblico alla francamente alla come dire alla disillusione rispetto al servizio pubblico ecco da questo punto di vista il prezioso come dire inestinguibile compito che il servizio pubblico ha verso la memoria ogni mese che passa mi trova sempre più scettico insomma da questo punto di vista grazie grazie a Massimo Bernardini per questa testimonianza sulla base della tua esperienza mi è capitato in tempi recenti di andarmi a rivedere l'interrogatorio subito da Silvio Pellico il giudice inquirente era Tino Carraro filologicamente un costituto d'archivio quindi però purtroppo lo dico per il pubblico giovanile che potrebbe esserci oggi tempi che lo vede introponibili oggi cioè in tempo reale un interrogatorio che durava 4-5 puntate quindi c'è anche da pensare come oggi si potrebbe fare pedagogia però rispettando la tempistica della produzione del visivo che è ormai dentro le nostre generazioni non solo le più giovani ma io stessa fremevo insomma quindi grazie perché c'è tantissimo ancora sicuramente su cui riflettere e darei un vi devo lasciare un saluto a tutti grazie perché purtroppo si è fatto un'ora che per me è un po' tardi grazie grazie ci sono sviluppi su questo tema la terrema giornata grazie buon lavoro arrivederci buon lavoro grazie grazie e quindi possiamo continuare nella nostra spaletta passando la parola a Katrin Briss per i suoi 15 minuti di intervento grazie Katrin grazie Arianna grazie dell'invito invito al quale ho fatto un po' fatica a capire come potrei rispondere diciamo a portare qualcosa perché parlando dalla Francia bisogna dire che il risorgimento se posso dire così non esiste quasi più io ho fatto un rapido controllo con amici che insegnano al liceo e la storia dell'Italia dell'ottocento non è quasi più insegnata diciamo insegnata veramente a piccolo tocco per il 48 dunque questo è un primo punto e io vi devo dire che ho sofferto molto ho fatto un corso nel primo anno di università quest'anno primo semestre su risorgimento e dunque sono ragazzi che escono dal liceo e nei piccoli quiz che ho dato alla fine di cinque cioè di undici settimane di corsi come si chiamò il primo re d'Italia ho avuto Giuseppe Mazzini che dall'altro era un alleato di Hitler dunque no è un po' uno scherzo a me mi ha fatto male anche per il mio insegnamento ma diciamo che per darvi un po' un livello di conoscenza dell'ottocento che è molto basso più generalmente e anche molto basso perché non è più come il neoborbonismo in Italia eccetera un elemento del discorso pubblico cioè faccio un esempio l'immigrazione italiana e dunque la storia dell'Italia è stata a lungo un elemento del dibattito pubblico e fu veramente pregio di Pier Milzà di ricordare quando c'erano i dibattiti sull'immigrazione magrebina che no l'immigrazione italiana non era sempre stata considerata pacifica normale che italiani non furono mai sempre accolti bene nell'ottocento però ormai l'immigrazione italiana è diventato il sogno di tutti rispetto all'immigrazione di oggi dunque non entra più nel discorso pubblico in modo dirompente se volete e perciò non interessa molto e interessa ovviamente i problemi francesi in questo momento con Zemmour abbiamo un sacco di discorso pubblico sulla storia però rivolto a Vichy al trattamento degli ebrei francesi non al risorgimento italiano io aggiungerei a questo che ci sono poche traduzioni dei lavori dei storici italiani in francese invece ci sono delle traduzioni di romanzi storici italiani e M di Scurati è stato interamente tradotto almeno i primi due volumi parle Zaren e è un successo e io tornerò forse su questo ovviamente interessa di più il fascismo o il rinascimento se ci mettiamo dalla parte dei francesi ovviamente il fascismo è un tema che è più più caldo poche le esposizioni le mostre sull'Italia anche questo dunque c'è direi a livello culturale a livello generale un'assenza un po' inquietante ma che si può benissimo anche capire se non si fa il detour tramite i belle arti e lì è un altro discorso a livello universitario io non mi fermerò molto ma devo dire che ho l'impressione e io parlo vedo che sono presenti Elena Musiani e Laura Fournier che sono forse la nuova generazione quelle che andranno a dare delle tesi in storia italiana dell'ottocento ma c'è stato un momento un po' di pausa nei lavori universitari francesi dovuti a diversi elementi che io accennerò rapidamente da una parte un numero abbastanza ridotto di professori che possono dare delle tesi sull'Italia e infatti penso a Gil Pecou che purtroppo ci manca molto perché lui ormai è ambasciatore dunque ha avuto 15 anni fa una unicole veramente la scarsezza la scarsezza delle borse di dottorato e anche il fatto che la storia nazionale che sia francese italiana diciamo mononazionale fa fatica a imporsi per ottenere borse di dottorato o anche progetti i progetti lo sappiamo bene non so più chi l'ha accenato prima forse Raffaele Romanelli ci danno i grandi progetti europei o anche nazionali ci danno la possibilità di dare delle borse di dottorato e dei postdoc su dei temi che possono essere l'Italia dell'Ottocento però vengono premiati in priorità ormai progetti piuttosto plurinazionali o transnazionali o non europei e questo pone un po' un problema e fa sì che la storia italiana quando va studiata per l'Ottocento va spesso studiata come un elemento in un discorso più generale che può essere storia delle migrazioni storia dell'esilio storia delle donne storia di genere eccetera eccetera dunque io voglio solo dare un esempio l'Ecole Francese di Roma ha fatto un bondo per progetti pluriannuali l'anno scorso per cinque anni c'è stato un solo progetto di storia italiana dell'Ottocento che dall'altro ha vinto ma ha vinto anche forse perché è l'ultimo progetto sull'Ottocento e questo per un'istituzione come l'Ecole e vedo che c'è anche Arthur Erisson e beh Arthur Erisson che è membro dell'Ecole Française di Roma fa storia transnazionale fa storia di un gruppo internazionale di cui le fonti sono a Roma però che ingloba altri paesi dell'Italia dunque tutto questo io andrò rapidamente su questo penultimo punto la storia dell'Ottocento e lì parlo di storia accademica soffre molto direi della storia transnazionale o connected history allora in un certo senso ne trae un certo beneficio perché l'Italia può essere inglobata cioè inserita in problematiche più larghe però fa fatica a ottenere finanziamenti o anche a interessare giovani studiosi per lavorare non so su non so gli abruzzi nel 1856 anche una storia micro ma che potrebbe essere molto interessante meno male che lo fanno anche benissimo i nostri i miei amici e colleghi italiani invece gruppi di lavoro internazionale esistono e quello è importante allora se mi permettete due minuti dopo questo direi ritratto un po' pessimista e comunque credo che la storia dell'ottocento del risorgimento italiano potrebbe ribalsare sotto diversi aspetti da un certo un aspetto è quello di vedere come può ridiventare calda può ridiventare un tema caldo io ho l'impressione sia con quello che ha fatto Carmine Pinto per la storia del brigantaggio però lo sapete benissimo Carmine non ha fatto solo che pubblicare il suo libro è andato dappertutto in situ a spiegare ai protagonisti nei piccoli villaggi che erano stati luoghi del brigantaggio a come le cose erano andate e a forse rifare una storia a paregal tra i neoberbonici e i liberali o italiani come volete dunque quello mi porterà a ulteriori riflessioni il risorgimento diventa caldo non so se è un po' artificiale o no ma io noto dei lavori nuovi italiani ma anche italiani italo-inglesi se volete su race and risorgimento per esempio che ovviamente con un titolo così dà immediatamente un elemento un po' di qualcosa da scavare che non è così semplice e che forse può riportare il risorgimento sulla scena tra virgolette pubblica oppure ovviamente il colonialismo anche se dal mio punto di vista non lo vedo molto bene però c'è tutto un discorso su colonialismo risorgimento Italia liberale dunque questa è la prima cosa diciamo i temi che vengono affrontati oggi dai giovani ricercatori sono dei temi un po' più scottanti l'ultima che vorrei fare risalendo a quello che dicevo su Carmine Pinto è che io credo veramente che la storia del risorgimento può ridiventare di interesse o di interesse e divertimento dunque non pedagogico pedagogico come era la RAI che ci è stato presentato che infatti era un momento di affinché gli italiani ricoprissero un passato che forse non era più ben conosciuto ma sappiamo benissimo che ormai attraverso che cosa passa la storia qualche volta in modi orrendi ma qualche volta in modi veramente interessanti sono le serie sono tutte quelle serie televisive e lì veramente il risorgimento è una miniera una miniera e pensate forse a dei serie che avete visto di recente che certo non sono il nec più ultra della storiografia anche qualche volta lo possono essere dove abbiamo imparato delle cose e lì c'è una prima pista la seconda pista è quella di Carmine cioè di andare di fare public history di andare sul luogo di vedere la gente e dunque di articolare una storia come si dice dal basso e la storia dall'alto dallo storico e di arrivare sboccare forse su un discorso che ovviamente non sarà quello di tutti ma che almeno lascerà delle tracce per i libri infatti M è un successo strepitoso e M tratta del fascismo ma non è solo questo è una scrittura diversa e c'è un romanzo sul risorgimento che abbia provato di adottare dei canoni letterari nuovi diversi dirumpenti che forse avrebbero un modo di raggiungere un pubblico molto più ampio come lo fece in modo più classico la serie di libri i volumi su i leoni di Sicilia e il Florio ma voglio dire il successo di M non è solo il fascismo è anche una creatività che uno ama o non ama che trova cioè sbagliata o no ma che tocca veramente un pubblico più ampio e non solo perché si tratta di Mussolini credo ecco dunque ho cominciato in modo molto buio scuro e forse negativo ma io finirei su una nota più diciamo ottimista però bisogna darsene i mezzi ecco grazie grazie Katrin per questa lettura direi disincantata ma costruttiva su quelle che possono essere le formule piuttosto che i contenitori ci dicevamo all'inizio dove questo 800 italiano chiamiamolo così può tornare ad essere apprezzato o comunque fruito io passerei subito per mantenere il ritmo e lasciare il tempo per poi un giro di domande la parola a Pedro Rugula che ringrazio per il suo intervento Pedro grazie Arianna buonasera a tutti per rispettare le indicazioni della nostra moderatrice articulerò questo intervento sviluppando una riflessione che si muove su due prospettive che riflettono la doppia best che interpreto nella mia professione e anche in questo dibattito la prima è quella dello storico e la seconda è quella dell'editore come storico vorrei proporre sinteticamente un'analisi sul modo in cui l'Otto cento e actualmente interpreta toda la storiografia española e come editor universitario vorrei cercare dimostrare che gli aspetti la potenzialità nel mercato propria esperienza in modo funzionale ai propri interessi alle proprie curiosità e anche alle proprie preoccupazioni è una premessa che ha ovviamente diverse implicazioni ma prima di tutto significa per quello che mi interessa evidenziare in questa discussione che i tempi principali attraverso i quali si interpreta il XIX secolo sono di solito quelli che hanno una tenenza o una familiarità con l'esperienza spagnola e questi sono di solito la nascita della nazione contemporanea lo Stato liberale la controrivoluzione la guerra civile o la costruzione dell'identità politica democratica o repubblicana è un presupposto importante che è utile tenere presente sia per analizzare le linee affrontate dalla ricerca storiografica sia per comprendere il comportamento del mercato editoriale e fondamentalmente questo è il motivo per il quale gli studi e gli interessi sull'Europa dell'Ottocento sono stati prevalentemente segnati da un fattore che potremmo definire come tra virgolette la soggettività spagnola questo sguardo che potremmo anche dire autorreferenziale fa sì che in Spagna la storia degli altri paesi attiva un interesse soltanto quando è funzionale a spiegare meglio i problemi interni a questo sguardo che quello dello storico si affianca quello dell'editorio creo che da un po' di tempo forse a partire dagli anni 90 i lettori si sono progressivamente allontanati dalla storia non è un fenomeno repentino o improvviso ma ha degli effetti che sono evidenti le sezioni di storia delle librerie sono sempre più difficili da trovare e la loro dimensione si sta progressivamente riducendo c'è anche un altro aspetto che penalizza ulteriormente l'Ottocento nella storia contemporanea infatti è il Novecento che monopolizza gran parte dello spazio guerra civile e franquismo nel caso spagnolo fascismo e seconda guerra mondiale nel caso europeo e questo contribuisce a limitare ancora di più la presenza di opere dedicate al XIX secolo viene da chiedersi perché questo accade può darci che la colpa sia in parte anche di noi storici dal momento che spesso scriviamo esclusivamente per i nostri colleghi o per un pubblico specializzato in questo senso dobbiamo ricordare ai nostri colleghi che il sistema editoriale non può essere sostenuto esclusivamente con questa tipologia di prodotto e cioè con i libri pensati e acquistati da specialisti e università credo che se non coltiviamo noi per primi i nostri lettori nessuno lo farà per noi in questo senso credo che gli storici debbano riflettere su un impegno di produzione doppio affiancare ai lavori che rispondono alla professione alle domande della ricerca scientifica e dell'accademia anche narrazioni pensate per raggiungere un pubblico più ampio colto ma non specializzato mi sembra l'unico modo per creare nuovi lettori e mantenere i vecchi in realtà credo che ci sia un problema ancora più grande di questo un problema che tra l'altro sfugge al nostro controllo la difficoltà a introdurre nuovi temi problemi e protagonisti in un universo di contenuti di fatto dominato da grandi sistemi di produzione di contenuti sistemi che sono mossi da logiche che rispondono agli interessi e agli obiettivi di grandi gruppi mediatici e sono supportati dalle tecnologie digitali il punto è che non è in nostro potere eseggere lo scenario editoriale ideale che dobbiamo affrontare è quello che è e noi non abbiamo nessuna possibilità di modificarlo o orientarlo quello che possiamo eseguire è piuttosto come affrontarlo in questo senso gestire una casa editrice universitaria da più di un decennio mi ha spinto a interrogarmi costantemente sul come possiamo superare questi ostacoli e quali possibilità abbiamo di riuscirci nonostante le difficoltà sono convinto che esista ancora uno spazio editoriale per la produzione storica sull'Ottocento il primo degli ambiti in cui c'è una domanda costante è quello dei libri di test universitari nei manuali contenuti sull'Ottocento conservano ancora ampio spazio e il risorgimento continua ad occupare un posto centrale tuttavia il rinnovamento dei contenuti almeno nel caso spagnolo è così lento che non è possibile riconoscere in questi volumi il riflesso degli importanti cambiamenti che la storiografia europea sul XIX secolo ha attraversato negli ultimi decenni forse in questo senso un'iniziativa sopranazionale potrebbe tradursi in una visione aggiornata integrata degli studi che si stanno facendo in ogni paese e che non sono direttamente recepiti nei manuali il secondo il secondo degli ambiti in cui è possibile riscontrare una buona risposta dei lettori è quello delle monografie che trattano argomenti generali e ben definiti le monografie che affrontano un tema o un problema storiografico possono avere un impatto significativo sul pubblico sia nel mondo accademico che tra i lettori in generale in Spagna ci sono stati grandi successi editoriali con libri sulla guerra d'indipendenza sulla cessa della nazione liberale contemporanea sulle guerre civili del XIX secolo o sui movimenti rivoluzionari e operai il denominatore comune di tutti questi volumi è che non affrontano temi del tutto nuovi anzi propongono sintesi aggiornate di argomenti che fanno parte della memoria del lettore sia essa memoria scolastica o memoria politica oppure sono una proiezione retrospettiva dei debattiti in corso qui non è tanto lo storico a decidere quanto il lettore seguendo questa idea cioè proporre ai lettori a monografie ben definite su un tema generale prensa della università di Zaraoza ha realizzato alcune traduzioni dell'italiano guidate da due obiettivi coprire uno spazio tematico ben definito e riconoscibile dal lettore e dall'altro introdurre nell'ambiente académico spagnolo delle ricerche metodologicamente esemplari in grado di offrire modelli da seguire per gli storici spagnoli un buon esempio della prima possibilità è la monografia di Ariana Arisi il risorgimento un viaggio politico e sentimentale recentemente tradotto in spagnolo questa operazione cerca di mettere sul mercato un volume monografico che permetta di riconoscere il processo di unificazione italiana come un fatto storico di per sé rilevante attualmente è l'unica monografia sul risorgimento italiano disponibile nel mercato spagnolo il libro di Ariana in realtà intercetta anche la seconda delle possibilità evidenziate quella cioè di offrire al pubblico spagnolo una nuova interpretazione del fenomeno risorgimentale che vada oltre l'approccio politico-instituzionale a cui è abituato presentare le dinamiche italiane dell'Ottocento come un processo di lunga durata ricco di elementi culturali e politici che si mescolano e in cui il ruolo di primo piano dei suoi protagonisti gioca un ruolo rilevante nella comprensione del risultato finale può essere uno dei modi migliori per presentare il risorgimento come qualcosa di nuovo attraente e comprensibile per il pubblico spagnolo credo infine che ci sia anche un altro modo per proporre con successo nuovi contenuti a un pubblico di lettori sempre meno avesso alle notizie storiche questo modo ha a che fare con lo stile narrativo tipico del genere biografico le biografie continuano ad essere prodotti editoriali ben definiti facilmente riconoscibili dal lettore e spesso capaci di congiugare ambizioni storiografiche e virtù letterarie personaggi facilmente riconoscibili dal grande pubblico come Mazzini o Garibaldi hanno ancora oggi un enorme potenziale per diffondere tra i lettori non solo la dimensione storica del personaggio ma anche l'impegno storiografico dello storico è sorprendente che alcune biografie di grandi storici su personaggi del XIX secolo penso per esempio alla biografia di Isabella II scritta da Isabel Burdiel e più recentemente quella di Ferdinando VII di Emilio La Parra ebbene con questa visione moderatamente ottimistica sulle possibilità di raggiungere i lettori espanoli con nuovi contenuti sull'Ottocento concludo il mio intervento concludo semplicemente sottolineando la necessità che storici editori hanno in questo momento di definire molto bene i loro prodotti editoriali in tempi in cui l'offerta culturale multimediale è così ampia è necessario che i contenuti che proponiamo abbiano specificità a pil tematico e una buona trama si tratta di condizioni essenziali per avere la possibilità di catturare l'attenzione del pubblico e trasmettere l'andamento delle ricerche a tutti i lettori non soltanto agli specialisti della materia grazie mille grazie Pedro anche per questa tua lettura interna e esterna allo stesso tempo al mondo dell'autocento italiano che ben conosci ma anche in un approccio comparativo all'ottocento che ha connotato il tuo intervento gli spazi che ci sono i rischi dell'iper specialismo e invece questo tentativo di lavorare anche sul binario di quella che potremmo definire un'alta e buona divulgazione allora in quanto ideatore di questo ciclo di webinar direi che un primo diritto alla domanda aspetta da Andrea Ciampani per cui vi lascio la parola per aprire la parte dedicata a domande repliche e appunto la parte più creativa in questa fase seconda del webinar abbiamo tre quarti d'ora circa grazie mille Arianna grazie mille a tutti coloro che sono intervenuti vorrei partire da un'osservazione proprio di Pedro l'ultima osservazione per fare una domanda che in realtà mi ha suscitato Bernardini prima e naturalmente una domanda per tutti perché non è solo un aspetto Pedro ha detto non è il nostro potere scegliere lo scenario però possiamo scegliere come affrontarlo un po' anche lo spirito di tutti questi nostri seminari sul risorgimento da ritrovare così come abbiamo immaginato di intitolarlo quali iniziative quel tipo di iniziative di fronte allo scenario che si sta delineando si possono prendere Bernardini diceva che secondo lui il racconto del risorgimento è affascinante soprattutto nonostante lo scetticismo col quale chiudeva il suo intervento diceva però questa frase mi ha colpito particolarmente il racconto allora mi domando se quel richiamo che lui faceva agli anni 60 e 70 in cui naturalmente è chiaro il rapporto con le dinamiche sociopolitiche di questi anni di grandi trasformazioni in quelle dinamiche di grandi trasformazioni si raccontava qualcosa in cui c'erano vari attori in cui c'era un divenire in cui c'era una dialettica invece io ho l'impressione che forse oggi racchiudere la storia dell'ottocento in categorie finisca per confermare qualcosa che era accaduto in passato sotto altre prospettive se volete un po' retoriche che oggi possono apparire un po' retoriche cioè un risorgimento cristallizzato immobile un risorgimento reso immobile reso appunto neutralizzato per dire così all'interno di categorie forse non aiuta a percepire quel dinamismo quella quella dimensione appunto contraddittoria quelle relazioni tra diversi attori che invece animano il periodo risorgimentale e mi domando se in questo non ci sia anche un elemento di difficoltà a narrare dello storico cioè se non si possa invece nel raccontare nel ricostruire nel raccontare anche qui raccolgo una sollecitazione una domanda che sollevava Pedro prima cioè appunto nel dibattito pubblico è difficile che entri l'innovazione della ricerca ora il tema è proprio questo io credo cioè come riuscire a far entrare a riprendere forse non so questa è una domanda che è la domanda che volevo fare a tutti se si può si possa invece ricominciare riprendendo a raccontare con le nuove acquisizioni che la ricerca introduce e rappresentare un risorgimento più mobile più dinamico rispetto a quello come noi sappiamo che è stato rispetto a quello che invece spesso viene raffigurato questa è un po' la domanda che volevo porre a partire da Bernardini ma anche agli altri naturalmente chi vuole cominciare a rispondere in sequenza non sento devi riattivare devi riattivare io l'ho attivato sì 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 no dicevo chi vuole cominciare può in sequenza ognuno può può dare la propria risposta non si raccoglie facciamo domanda ogni domanda tutti rispondono oppure se ci sono altre domande oltre a quella di Ciampani magari le possono anche scrivere in chat così raccogliamo dei gruppetti perché temo che la risposta a questa domanda prenda fino alle 9 di tutti quanti quindi no volentieri giusto Fuzio questa ve la ve la mettete da parte e poi attendiamo altre sollecitazioni commenti o proprie domande dai partecipanti presenti Marco Pignotti ha alzato la mano prego Marco ma funziona che posso anche fare la domanda la devo scrivere per forza falla falla dai falla ve la ricevo sarò brevissimo però vorrei sollevare un quesito che in realtà ho già sollevato due volte nei nostri due precedenti incontri quindi è un po' un disco rotto però gli interlocutori sono diversi quindi magari le loro risposte potrebbero arricchire il nostro dibattito ci stiamo interrogando appunto su questo risorgimento ritrovato io direi che forse la discussione di oggi ci pone un altro questione cioè l'ottocento ritrovato più che risorgimento ritrovato quindi allargare un po' diciamo il tema non solo al risorgimento lo ampliamo ed è stato ampliato fin dall'inizio dall'intervento di Fulvio Cammarano ma anche poi anche da tutti gli altri quindi non ci ci scostridiamo al risorgimento parliamo dell'ottocento la tocco piano come l'ho fatto nelle precedenti puntate cioè perché l'ottocento non è centrale semplicemente secondo me e pongo la domanda a due campioni come Cammarano e Romanelli che si sono anche cioè che hanno conoscono la didattica che la fanno l'ottocento non è centrale perché nei più di 1500 corsi di MSTO04 appena il 10% tratta l'ottocento cioè il 90% dei corsi di MSTO04 la storia contemporanea tratta prevalentemente il 900 e quindi la centralità si perde a partire dal dato quantitativo poi il dato qualitativo chiaramente non è qui il momento per svolgere una riflessione che serve troppo più alta però è un dato numerico che schiaccia l'ottocento ai margini del dibattito perché gli stessi attori cioè i docenti che insistono su MSTO04 nei loro corsi trattano per il 90% della propria potenza didattica il 900 quindi questo è un dato che io pongo proprio a due esperti come Camarano e Romanelli che hanno studiato l'ottocento lo faccio con una captazio quindi gioco una carta sporca 800 lezioni di storia contemporanea quindi storia contemporanea all'ottocento come diciamo base delle proprie lezioni perché se un autore come Romanelli appunto titola 800 lezioni di storia contemporanea vuol dire l'ottocento a pieno titolo è nella storia contemporanea non voglio sentir dire che l'ottocento è meno affascinante o più affascinante l'ottocento è necessario nella storia contemporanea non è affascinante è necessario per capire la storia contemporanea tutta perché io non posso avere un contemporaneista che conosce solo il novecento o che tratta prevalentemente il novecento perché come ha detto Camarano la politica prorompe nell'ottocento però come posso comprendere la politica del novecento se non ne conosco le origini forse mi sono un po' troppo dilungato quindi mi fermo qua e aspetto quindi una risposta se c'è qualche altra domanda possiamo aggiungerla e se no darei via alla sto guardando se ci sono mani alzate ma non ne vedo per l'ora darei via alle risposte repliche allora cominciate inizio sì no ci sono molte molte cose da dire intanto un po' risposta e un po' interlocuzione con 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 gli altri per quanto riguarda la la questione di di Marco Pignotti io credo che bisogna assolutamente uscire dalla logica del l'ho detto più volte non è facile poi se siamo dentro l'accademia ne parliamo da accademia e da risorse da dividere però dobbiamo uscire dalla logica del patriottismo storiografico l'ottocento l'ottocento il novecento le sottodivisioni è veramente deleterio proprio nel momento in cui dire appunto la storia non ha un impatto diciamo non ha un'influenza nel discorso pubblico come dovrebbe averla allora credo che ridurre sentito una parte dell'intervento del del seminario precedente siamo troppo dentro questa cosa io la capisco perché è giusto anche difendere interessi problemi temi e dunque è comprensibile però bisogna fare uno sforzo per uscire da questa dinamica perché colleghi si occupano solo del novecento probabilmente sono stanno per essere risucchiati dentro la logica del presentismo cioè più ci si avvicina all'oggi più si è interessanti non ci sono altre spiegazioni non è possibile evidentemente parlare di contemporaneità in nessun modo senza partire dalle rivoluzioni e il fatto che questa sia qualche volta sembri noiosa qualche volta interessante è un errore di prospettiva che certo può derivare da chi scrive dalla capacità ma è un errore di prospettiva che parte dall'idea che cose troppo passate o che non come dire non portano con sé il male come il fascismo e il nazismo sono meno interessanti allora questo è un errore di prospettiva perché a mio avviso i temi sono assolutamente identici noi siamo dentro la contemporaneità e quello che avviene dalle rivoluzioni ad oggi è nella sfera politica la stessa identica cosa il libro di Arianna quando si è occupato nel 1869 chi è che non lo legge come un libro di contemporaneità a tutti gli elementi come dire dei conflitti attuali perché siamo dentro l'ambito della legittimazione la legittimazione è conflitto e dunque è possibile leggere tutta la storia contemporanea che va divisa in questi due grandi secoli il secolo XIX che è secondo me e corrisponde all'età delle rivoluzioni che io definirei come ho detto prima costituente e poi il secolo del costituito che è il XX secolo dopo si può parlare di quando finisce il XX secolo ma non è qui la sede ma dentro queste due realtà i temi sono gli stessi chi organizza per presentarsi come più alla page o fare temi più interessanti o cose di questo tipo sbaglia pienamente perché evidentemente non è possibile immaginare che ci sia qualcosa di antiquato e qualcosa invece di più moderno vuol dire non aver capito il senso profondo della politica e di quello che nasce nel XIX secolo però detto questo dunque dando ragione nella polemica a Marco direi anche che però bisogna mostrare una certa superiorità nel presentarsi come storici divisi in bande invece per quanto riguarda la questione posta da Ciampani e insomma dire che sono i temi di Bernardini io da una parte ritengo che la storia non sia una disciplina è una disciplina accademica ma è qualcosa di più o ci si rende conto a livello di vertici della RA in questo caso o anche tutti gli altri vertici che possiamo immaginare che la storia è una forma abbastanza come dire alla portata di tutti di educazione civica contro le fake news o ci si rende conto di questo o altrimenti è chiaro che uno dice beh la storia allora facciamo anche l'antropologia la psicologia la cosa no la storia credo che debba essere interpretata in questo modo e se non c'è questa sensibilità è evidente che all'interno della RAI adesso parliamo della RAI di qualunque altra dimensione comunicativa la storia non passerà mai io mi sono sempre chiesto ad esempio una provocazione che lancio a Bernardini per quale motivo questo spazio come dire così ristretto questa risorsa così per pochi che è lo spazio televisivo che ha quella e giustamente l'audience è fondamentale bisogna costruirla ma che ha quella enorme vuoto che è la notte io mi sono sempre chiesto come mai diciamo sia alla radio che alla televisione quello spazio non viene utilizzato in una maniera un po' più virtuosa mi permetto di dire visto che tutti parlano in questi termini è un esempio banale ma potrebbe cominciare da lì occupare quello spazio dove quasi nessuno è presente ma tuttavia rimane uno spazio pubblico per avviare una riflessione una discussione è un dibattito pubblico con formule da individuare molto economico che ci permetta di dire che la storia è presente anche nelle preoccupazioni dei vertici i vertici lai detto questo diciamo per non occupare altro spazio ci sarebbe altre cose altre cose da dire volevo con con Pedro ricordare perché mi ha fatto piacere quello quello che ha detto della autoreferenzialità della Spagna ma se ci pensiamo dall'esterno e mi ha molto colpito questa autoreferenzialità anche in senso positivo tutte le volte che sono stato in Spagna e convegni mi sono accorto che gli spagnoli non sono assolutamente dipendenti dal dibattito anglo-americano perché perché evidentemente la Spagna è un impero ed ha un'autonomia ed ha un immaginario che non come dire la costringe a diventare un vassallo culturale di mode e modelli che nascono altrove poi in maniera sbagliata in maniera eccessivamente come dire ristretta questo non sta a me a dirlo però effettivamente quest'idea della Spagna e della soggettività spagnola nasce qui e i temi a cui ha fatto riferimento sono effettivamente i temi del XIX secolo la Spagna ovviamente è pienamente interna e che hanno rappresentato un punto di riferimento per l'intera Europa per cui questo chiudo dicendo che effettivamente il libro di Arianna nel mio piccolo è scelto dagli studenti come libro da portare dunque un libro a scelta fra tanti un numero crescente di studenti lo sta adottando probabilmente proprio per un passaparola rispetto a una vivacità e una capacità di parlare di questo tema proprio dentro questa dimensione ampia dove non si parla appunto del teatro delle marionette dei buoni e cattivi ma si introduce il risorgimento dentro questa dimensione ampia e chiudo con un documento storico probabilmente non ce l'ha nessuno questo volume si chiama il risorgimento italiano forse Lele è l'unico che potrebbe averli incrociato perché è un volume uscito nel 1966 fuori commercio e distribuito presso i centri di lettura gratuitamente per un'istruzione pubblica diciamo così questo fa il paio con la televisione degli anni 60 perché immaginate un libro distribuito nei centri di lettura gratuitamente che è il risorgimento italiano questo ha formato ovviamente molti ragazzi all'epoca si leggeva ed era appunto dato in maniera abbondante a tutti quanti ha formato molti ragazzi qui dentro però c'è quel risorgimento di cui parliamo in cui ci sono dei buoni dei cattivi e non si capisce niente perché nulla parte da quella dimensione rivoluzionaria di cui parlavamo basta sono stato un po' troppo veloce ma era necessario grazie grazie pulvio basta parlare dei miei libri perché no ma era un esempio importante perché gli studenti lo scelgono posso reagire a sì sì prego perché so che deve andare via prego prego dottor Bernardo mi ha colpito cioè voglio dire da un certo punto di vista io penso sempre come dire bisogna avere la consapevolezza che la RAI ha un editore e l'editore è la politica e la politica italiana oggi non ha un discorso pubblico sul servizio pubblico questo è molto importante ricordarselo perché l'aveva in passato l'aveva in maniera dialettica l'aveva in maniera confusa l'aveva in maniera lottizzata ognuno può pensare tutto il male possibile della RAI lottizzata ma la RAI lottizzata nata a metà degli anni settanta con la nuova conformazione che appunto è nata allora cioè la RAI che uscì dalla dipendenza del governo per arrivare alla dipendenza del Parlamento che nonostante i cambiamenti di governance in realtà oggi è così cioè quando noi vediamo forse qualche volta lo vedete sul giornale quando si riferisce delle audizioni dei nostri dirigenti davanti alla commissione di vigilanza parentesi la commissione di vigilanza è un unicum nel mondo nel senso che neanche la Polonia c'è la commissione di vigilanza neanche l'Ungheria di Orban cioè i nostri dirigenti della RAI devono andare a ossequiare un parlamentino di di politici che non capiscono un cacchio di televisione neanche per sbaglio insomma questa è la condizione italiana però con la differenza che in passato dietro questo c'era un'idea di servizio pubblico oggi tutti i nostri politici parlano in servizio pubblico ma non hanno nessuna nessun interesse mettiamola così ma è logico come dire perché lì deve interessare il servizio pubblico quando il loro problema è elettorale come dire il servizio pubblico vuol dire formazione vuol dire discorso pubblico vuol dire storia pubblica vuol dire storia del paese vuol dire interesse a tutto questo ecco quindi questo è lo scenario in cui ci muoviamo e bisogna essere molto consapevoli perché io sono convinto che siamo alla vigilia come dire della fine di un di un'idea di servizio pubblico insomma perché appunto lo continuiamo a ripetere ma io sono molto scettico a riguardo ed è uno scetticismo però è nato molto recentemente insomma è come se io avessi gettato la spugna da questo punto di vista però ecco da questo punto di vista la progettualità oggi del servizio pubblico rispetto a questo a me ha colpito molto la signora Briss giusto Katrin Briss lo dico giusto sì sì o Briss se vuole come preferite Briss no il fatto che lei abbia citato Scurati mi ha molto colpito vabbè stiamo parlando di storia del novecento però a me ha molto colpito perché io che ho fatto cinquecento puntate di cui credo almeno trecento sul sul fascismo perché appunto dal punto di vista anche dell'ascolto sapevamo benissimo che pur in un contenitore quotidiano come dire tirava molto più il fascismo dell'ottocento ecco mi colpisce molto l'idea che lei abbia questa visione così così positiva di quello che io considero invece una sorta di come dire di resume ecco visto che lei è francese di resume littérare di quello che che francamente io lavorando con storici che hanno lavorato per tanti anni sul fascismo non considero niente di più appunto che un resume come dire anche il grande successo anche francese come lei ci ha testimoniato di emme ci dice secondo me che siamo in un'epoca di storia romanzata mentre io sono convinto che quello di cui abbiamo bisogno oggi è la mia avventura appunto di 500 puntate con i maggiori storici anche contemporanei stifrato la ringrazio molto di quella segnalazione che mi ha fatto anche nel frattempo sono riuscito a chiacchierare con l'amico Gilles Pecou che mi ha raccontato la sua nuova avventura di ambasciatore a Vienna chiusa parentesi perché Pecou per esempio per me è stato un incontro fantastico cioè lo studioso è il più grande studioso italiano mi viene da dire internazionale europeo dei Garibaldini di tutta la storia di Garibaldi e di Garibaldini ecco questo questo vuol dire avere un discorso pubblico sulla storia non scurati francamente scurati è resume per me cioè io ho una grande stima di voi storici e una profonda disistima per i letterati che si trasformano in storici compresi giornalisti e non aggiungo altro nel senso che secondo me l'avventura del tempo e la storia che infatti non c'è più in onda sui canali Rai era proprio quella cioè di incontrare gli storici gli storici sono una cosa diversa dai divulgatori giornalistici o letterali ecco io sono convinto che come dire il punto di di crisi in cui siamo è proprio questa cioè noi abbiamo da una parte non so gli altri paesi i servizi pubblici come si muovono su questo terreno però so che dell'Italia manca un discorso pubblico sul sul servizio pubblico e dall'altra divulgazione ormai vuol dire qualcuno che non non parte dalle fonti allora per me storico vuol dire io ho la profonda stima ed è stato molto divertente parlare con degli storici per tre anni perché voleva dire parlare con qualcuno che ha in mano i documenti ora oggi noi abbiamo davanti una come dire una intera categoria di divulgatori che rileggono letterariamente i lavori che altri hanno fatto sui documenti ecco da questo punto di vista io trovo che stiamo finendo in una logica che come dire che ci allontana sempre più dalla storia ecco non è più storia questa questa è romance non so come dire è romanzo è fiction ecco per usare un termine contemporaneo è fiction facciamo della bellissima fiction e prima o poi come sta succedendo io me lo ricordo benissimo in quei tre anni per esempio con un con un collega vostro molto interessante come il professor Barbero spesso eravamo davanti documenti anglosassoni o tedeschi che erano risibili nella loro pochezza storica ecco e però lo rileggevamo criticamente da questo punto di vista ecco il problema è questo oggi cioè se vogliamo anche sul risorgimento fare un discorso come dire pubblico che sia vero ci vogliono gli storici e ci vuole un'interrogazione vera degli storici che la divulgazione si è in mano ai letterati a me preoccupa un pochino ecco onestamente grazie e adesso lascerei la parola per la sua replica l'era Romanelli funziona ecco sì io prendo lo spunto di quello che ha detto Marco Pignotti che ovviamente apre figuriamoci se a me non interessa moltissimo il tema di Marco mi apre la stura adesso non so quanto tempo ho un'ora 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 dieci no sì allora Marco ha posto due problemi sostanzialmente uno in questa storia contemporanea che parte abbiamo detto dagli anni settanta del settecento più o meno insomma da quell'epoca lì della modernità ci sono che spazio occupa la distinzione tra otto e novecento qual è lo specifico dell'ottocento rispetto al novecento dove è una cesura mi pare che questo abbia posto questo problema allora qualche annotazione prima di tutto in questa contemporaneità l'ottocento indubbiamente riguarda il nation building la costruzione delle nazioni e la costruzione del liberalismo mi sembra che sia una cosa che riguarda tutta l'Europa mentre in questa in questa forgiarsi della nazione moderna nel Regno Unito per esempio l'ottocento tutta l'età vittoriana una fortissima carica simbolica politica una grande effetto di trascinamento che tuttora rimane così avviene per la Francia la Marianna la Repubblica cioè è una cosa che è ovunque anche perché è insegnata eccetera ma insomma è nei monumenti è nello spirito nazionale Mauser per la Germania ovviamente è il secolo della costruzione dell'impero ma direi perfino in Spagna perché è vero che la storia ottocentesca della Spagna è una storia di una crisi che culmina il grande desastre nel 1898 cioè è la storia della distruzione dell'impero ma è anche la storia che parte da Cadiz è anche la storia che fonde il liberalismo europeo con tutti i travagli con tutte le tensioni con tutte le guerre civili cioè è il paese che ha dato il liberalismo all'America Latina e quindi anche in quel caso ritengo che l'ottocento anche per la Spagna la questione è molto complessa e travagliata sia il secolo della costruzione dell'unità nazionale lo è per l'Italia? Certo che sì abbiamo fatto il risorgimento dell'unità d'Italia senza nonostante però gli sforzi nelle prime classi dirigenti unitarie grossi sforzi nell'invenzione del concetto risorgimento nel fare di mettere i mazzini caribardi e cadono tutti insieme che qui si sarebbero sparati addosso nel farne soltanto una triade rivoluzionaria unita un grande sforzo nei musei risorgimento nel creare la disciplina e nonostante questo questo effetto non c'è stato sul piano del trascinamento di massa pensiamo tra le tante cose alla difficoltà di creare una festa dello statuto su cui si è interessata Porciani cioè insomma si trattava di fare una festa nazionale cosa fare? Il compleanno il re lo statuto ma il statuto non interessava nessuno questo è un fatto abbastanza unico nella storia europea quindi da una parte c'è proprio un intrinseco fallimento nonostante tutte le glorie la simpatia la monumentalità la retorica sull'ottocento sull'unico però insomma c'è oggettivamente una grossa mancanza e la ricondurre ed è un'altra cosa nella cultura nella cultura diffusa italiana il liberalismo i liberali i concetti del liberalismo dello stato di diritto non hanno mai avuto grosso peso mai fino ad oggi ovviamente c'è stato il fascismo ma non voglio che dilungarvi ma in tutta la costituente i costituenti erano ostili all'Italia prefascista non erano dei grandi recuperatori di grandi valori tutt'altro è tutto un atteggiamento di rifondazione di qualcosa di nuovo che guardava con grande sospetto il passato quindi questa frattura c'è ed è nei fatti qui allora poi si riflette nelle discipline accademiche da cui è partito Marco Pignotti ricordiamoci una cosa che un tempo quando io ero studente non esisteva la disciplina storia contemporanea la disciplina storia contemporanea nasce come storia dei partiti non accettata benedetto croce era contro perché la contemporaneità non può essere studiata perché richiede prospettiva eccetera eccetera quindi c'era storia dei partiti De Felice insegnava storia dei partiti veniva gabellata diciamo così la storia contemporanea della storia dei partiti la disciplina storia della contemporaneità si chiamava storia del risorgimento con tutto il carico di falsità come dire di retorica il potenziale inconsistenza retorica aveva questa disciplina io mi ricordo nella mia anche nel mio curriculum universitario non c'era storia contemporanea c'era storia di risorgimento e il povero professore di storia di risorgimento se gli interessava il novecento insegnava al novecento nella storia di risorgimento onde quello slittamento cronologico che notava Pignotti a un certo momento e invece è successo un ciclo di cui pure bisognava in qualche modo tener conto e fare la storia la disciplina storia di risorgimento credo sia scomparsa e tutto sommato non è male che sia scomparsa che ci sia si inventi una disciplina che è la storia dell'ottocento l'argomento di cui stiamo parlando che non si chiami storia di sorgimento la storia di sorgimento porta con sé tutta questa carica di memorie retoriche e monumenti di Mazzini e Garibaldi che è un oggetto di storia interessante ma non fa parte dello spirito della nazione non fa parte della cultura della nazione quindi si crei bisogna ancora cominciare diciamo from scratch bisogna cominciare alla base per creare una cultura disciplina didattica sull'ottocento non su risorgimento e quindi in fondo tutto questo spiega perché quando diceva Pignotti la maggior parte delle discipline delle carte degli insegnamenti del mestrado 2004 hanno cancellato l'ottocento secondo me per questi vari motivi sostanziali perché l'ottocento come età del liberalismo della costruzione dello stato di diritto della libertà della dialettica liberale è cosa che è strana alla cultura italiana non interessa agli italiani sono un po' transciano naturalmente in questo però però ci credo cioè credo che veramente tutto ciò che può essere definito come liberalismo è cosa contraria estranea alla cultura italiana molto più di quanto non sia all'inglese alla francese perfino alla tedesca e come ho detto alla spagnola per quanto si possa dire gli spagnoli hanno molto nesso con l'Italia perché noi abbiamo perché per molto tempo abbiamo dialogato su cos'è il casichismo noi abbiamo il trasformismo poi c'è il casichismo cioè la corruzione del sistema parlamentare ma questo è un aspetto deteriore quindi anche nel caso anche nel caso spagnolo con tutta la la complessità del caso il liberalismo è un elemento intrinseco all'ispanità che ha invece una dimensione imperiale ma ripeto la dimensione imperiale che ha costruito le nazioni liberali democratiche dell'america latina attorno a Cadiz Cadiz è una costituzione come sappiamo che ha avuto un'applicazione in Italia e in America latina in Spagna ha avuto pochissima ma fa parte della cultura spagnola almeno questo ci potranno dire gli spagnoli quindi questa denuncia che aveva Marco e che mi pare molto pregnante tanto da aprire quasi un'altra pagina di questo vostro seminario che sottolinea cosa distingue l'otto e il novecento perché l'attenzione si sposa sul novecento e ignora l'ottocento perché la cancella riguarda a mio parere ripeto una dimensione che è la storia della disciplina che è una cosa abbastanza accademica ma che dentro la quale c'è qualche cosa di più denso guardate leggendo gli atti della costituente ci fosse stato uno sì c'erano alcuni anziani prefascisti Vittorio Emanuele Orlando Vittorio Emanuele Orlando aveva qualche simpatia per l'Italia liberale ma altrimenti l'Italia liberale era guardata intanto perché era in qualche modo la matrice del fascismo il fallimento dell'Italia liberale era in qualche modo prodotto il fascismo quindi con tutte le sue strutture e limiti quindi non c'è alcuna valutazione del liberalismo ottocentesco dello stato di diritto no perché è una cultura prevalentemente marxista e cattolica ma adesso non stiamo facendo adesso ti chiedo di fermarti perché abbiamo dieci minuti scarti e vorrei lasciare la replica o comunque un commento a ti ringrazio e a ti ringrazio di fermarti di fermarti grazie a te grazie a voi Katrin se vuoi aggiungere qualcosa sì certo che voglio aggiungere qualcosa voglio ringraziare Massimo Bernardini per queste remarche dure perché in realtà raggiunge esattamente la domanda fatta prima su come si può rendere conto di dibattiti storiografici quella è una domanda che va oltre l'ottocento in libri o diciamo produzioni che non sono destinate solo a 50 lettori e raggiunge anche le proposte di Ruiulà diciamo come editore quello che ci ha detto alla fine dunque sì capisco che lei non sia contento che Mussolini discurati abbia tanto successo e che si impadroniscono di questi temi giornalisti ma allora lo facciamo noi perché in realtà il problema è questo se vogliamo fare dei libri che sono letti da più di 50 persone su dei temi sui quali stiamo lavorando di cui siamo specialisti dobbiamo imparare a farlo non si inventa così e lì è tutto è una sfida e vogliamo anche dobbiamo anche volere farlo e lì credo che c'è un gap generazione abbastanza forte tra la mia generazione e i più giovani che hanno molto più credo sono molto più consapevoli che c'è un passaggio ulteriore da fare dal lavoro di storico attaccato alle fonti agli archivi al lavoro universitario accademico che ovviamente è il fulcro della nostra professione ma che se vogliamo che l'ottocento diventi un po' interessante per più gente abbiamo uno sforzo da fare se non lo facciamo se altri lo fanno non troppo male io sono ben contenta e lì devo dire che ci sono delle degli esempi che non cioè di storici veramente ottimi che hanno fatto questo sforzo con dei libri geniali come il cappello di Vermeer di Timothy Brooke che ha fatto capire a mili migliaia e forse centomigliaia di persone che cos'è la globalizzazione del periodo moderna solo che non l'ha scritto con tutte le note fra pagina cioè lui questo lavoro l'ha già fatto e ci propone però bisogna imparare a scrivere così imparare a fare dei podcast imparare a fare per esempio le trasmissioni YouTube se non lo fanno gli altri e forse sono meno bravi di noi ma sono più bravi di noi a far passare le idee dunque almeno se uno scrive un libro appoggiandosi sui lavori dei storici già questo io sono ben contenta i benevolenti per esempio di Little infatti si è appoggiato su tutta la storiografia su il nazismo la Shoah però alla fine è assolutamente accettabile dunque o si dice non lasciamo o non vogliamo accettare che la storia venga scritta da altri per altre persone che storici e va bene o noi abbiamo voglia di far capire che cos'è che cosa sono i nostri temi come vengono rinnovati perché il problema è anche questo se no si scrive sempre la stessa cosa e andiamo però dobbiamo imparare a farlo e lì le università dovrebbero dare dei corsi di non fiction creative writing per esempio cosa che fanno le università americane e il risultato è che abbiamo ottimi libri di storia scritti dai nostri colleghi americani che sono storia però che hanno diciamo un successo poi ovviamente dopo c'è il tema che può interessare meno però almeno questo sforzo secondo me va fatto e se va fatto per adesso non come uno sforzo ma proposto da giornalisti o da scrittori scrittori va meglio di niente direi ecco grazie un piccolo dettaglio condivido totalmente quello che ha detto la signora Brais la professoressa Brais dico solo che io ragiono da giornalista quindi sono terra terra dico solo che io credo che la formula giusta sia proprio questa la mediazione giornalistica che 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 dialoga col con lo storico questa secondo me è il passaggio più ricco più ricco proprio perché tu come giornalista ti metti dalla parte almeno come lo come lo concepisco io insomma dalla parte del telespettatore quindi non ti non ti senti superiore a lui ma e non ti senti neanche uno storico come alcuni credono di essere e semplicemente come dire ti metti da mediatore rispetto a chi invece ha mi verrebbe da dire come dire appoggiato e seduto sulle fonti perché se no si rischia di ripetere l'ovvietà infinita cioè come dire ci piacciono i letterati perfetto francamente a me la ricostruzione del fascismo fatta da Bruno Vespa che di fatto ha il suo terzo capitolo che voi citate scurati ma quello più venduto secondo me da un certo punto di vista è Bruno Vespa che rilegge il fascismo ecco come dire bello bellissimo è un collega fantastico ma come dire io preferisco questa mediazione di cui parlavo prima cioè mediazione come dire che non sia una sovrapposizione ecco io credo che il mestiere nostro da divulgatori sia questo non sovrapporsi a voi che lavorate e magari ci spiegate qualcosa in maniera un po' più dialettica di noi che ripetiamo dei luoghi comuni per la fine grazie veramente è un flash doveroso per Pedro sì soltanto fare due due riflessioni la prima è la difficoltà di definire l'agenda dei lettori o dei studenti noi siamo in difficoltà per offrire un oggetto di lettura che sia eselto nella nella libreria dobbiamo lavorare nell'altra parte e io penso che dobbiamo come storici dobbiamo pensare di più nei lettori dobbiamo pensare di più nei lettori e no in noi come utori perché se no non arriveremo all'obiettivo che è trasmettere le nostre ricerche il nostro sapere penso che per dare un'immagine dell'Ottocento ai lettori dobbiamo trovare la maniera di trasmettere la passione l'argomento la intensità del momento storico che noi conosciamo bene ma loro non lo conoscono è per questo che dobbiamo trasmettere comunicare fare un atto di comunicazione fare un obietto di messaggio comunicare quello che noi sappiamo ma loro 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 no è la questione fare del nostro lavoro non solo la ricerca ma anche la comunicazione è tutto grazie Pedro è tutto ed è molto perché forse è proprio la sintesi di quanto tutti avete un po' cercato di dire con direi in fondo anche degli sprati di ottimismo io vi ringrazio passo per la chiusura la parola ad Andrea Cialtani l'appuntamento è al 18 di febbraio per il quarto webinar sul tema risorgimento società io solo ringrazio tutti quanti per questo interessantissimo dibattito che credo sia appunto anche un dibattito fuori della norma nel senso che non solo è stato lungo ma è stato originale rispetto ad altri dibattiti in cui spesso appunto come si diceva qualcuno si sente la ripetizione delle banalità infinite credo che in questo modo riusciamo a dare un contributo alla riflessione collettiva e veramente sono molto grato tra l'altro segnalo che il nostro webinar è seguito non solo dal pubblico francese ma anche da quello tedesco molti colleghi tedeschi collegati e dunque vuol dire che la nostra riflessione di grande interesse anche negli altri paesi ringrazio ancora tutti l'appuntamento è nel continuare nel concludere si può dire questi nostri ragionamenti avviati sui temi degli indirizzi della ricerca il primo incontro le problematiche dell'università il secondo incontro il dibattito culturale e infine l'impatto appunto nella società del nostro impegno di studio e di ricerca grazie a tutti ci vediamo il 18 grazie buonasera ciao buonasera grazie a tutti ciao ciao grazie grazie ciao a tutti grazie a tutti